I vincitori di La tua idea d'impresa, protagonisti a Roma di uno speciale Innovation Camp, organizzato da Sistemi Formativi Confindustria e Università Luis Guido Carli di Roma. Sono stati due giorni di formazione intensiva, ospitati nella sede di Luis N Labs, la fabbrica delle start-up, l'acceleratore di impresa ospitato nell'ala mazzoniana della stazione Termini. Noi come Luis Guido Carli siamo assolutamente felicissimi di aver collaborato con Sistemi Formativi Confindustria su questo progetto, è un progetto in cui abbiamo potuto vedere chiaramente l'entusiasmo, la qualità dei ragazzi. L'incubatore Luis N Labs, in cui abbiamo fatto questa parte finale della formazione degli studenti, sarà sempre felicissimo di ospitare qualunque evento di questo tipo e anzi contiamo già da adesso di dare un supporto ancora maggiore per l'anno prossimo. Presenti a Roma, accompagnati dai loro docenti, gli studenti dell'Istituto Diana di Colle San Nita, Benevento, primo classificato nella gara di idee, dell'Istituto Einau di Gramsci di Padova, terzo classificato, e dell'Istituto Marconi Carbone di Tortona, Alessandria, vincitore del premio Innovazione. Questi due giorni di formazione, di corso, sono stati bellissimi in quanto abbiamo imparato cose che prima non sapevamo e quindi diciamo ci hanno aiutato a crescere, a migliorarci. Abbiamo avuto un'introduzione a quello che potrà essere il nostro futuro come imprenditori. È vero, è stato molto faticoso, però posso dire che ne è valsa la pena. Ci ha dato l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro e di farci aprire gli occhi e vedere come dal basso si può partire ed arrivare fino alla cima della montagna. I docenti Augusto Coppola, co-founder Innovation Lab, e Carlo Alberto Pratesi, docente di marketing e innovazione alla Facoltà di Economia dell'Università Roma 3, hanno focalizzato l'attenzione dei ragazzi sull'innovazione tecnologica e di mercato. attraverso il confronto con esperti, il lavoro in team, seminari dedicati ai fondamenti di una start-up, alla preparazione di un pitch, al business model e plane e all'incontro diretto con due start-up di Lewis & Labs, Le Ciconie e Game Picks. I ragazzi erano molto preparati. In due giorni sono arrivati qui e il risultato che abbiamo visto è davvero importante. Spero che per i ragazzi sia stato qualcosa che ricorderanno a lungo e che gli abbia dato l'impressione che diventare imprenditori si può veramente. Obiettivo fornire ai ragazzi una maggiore consapevolezza degli strumenti più utili nel portare avanti le idee di impresa e una maggiore capacità di comprendere le dinamiche alla base dei processi di investimento. Le due giornate conclusive come premio nazionale sono state molto positive, costruttive. È un ambiente molto informale, immediato, confidenziale. Ha caricato le batterie insomma a tutte. Torniamo con appagati e arricchiti. Grazie. Alla fine di la tua idea di impresa Innovation Camp, Sistemi Formativi Confindustria e LUIS hanno consegnato agli studenti gli attestati di partecipazione.